Il consigliere comunale Nisseno Gianluca Bruzzaniti in una lettera aperta fa il resoconto dell'amministrazione Ruvolo ormai agli sgoccioli e sostiene che sono tanti i progetti che ancora devono essere conclusi, a cominciare dalla proposta ancora in cantiere del trasferimento del mercatino del sabato in via Ferdinando I. Bruzzaniti afferma che nonostante la proposta presentata dall'intero consiglio comunale sia stata appoggiata dal sindaco, dai commercianti, dal comitato di quartiere e dai residenti, ancora oggi si attende l'evoluzione della vicenda ma pare debba consolidarsi alla fine di questo mese quando la proposta di delibera approderà in consiglio comunale. Altro progetto incompiuto riguarda la sostituzione del manto erboso allo stadio Tomaselli. Infine il consigliere punta il dito su una questione veramente preoccupante, ovvero il blocco dei lavori sulla strada statale 640. Secondo Bruzzaniti ad oggi arrivano solo notizie di seconda mano e nessuno dell'amministrazione ha fatto un quadro complessivo e chiaro dell'attuale situazione, anche se a nord del vero il sindaco Ruvolo ha cercato in tutti i modi di interagire con Roma che si ostina a rimanere in uno sconcertante silenzio. Persino il governatore Musumeci è ancora in attesa di risposta da parte del ministro Toninelli. La lettera aperta si conclude con l'augurio che l'amministrazione Ruvolo, prima della fine del mandato, risolva tutte quelle tematiche che ad oggi sono sospese.